ma questi sono lucchetti psichici questo significa che la signora in me sta cercando di nascondermi qualcosa questo è il magatama che maya mi ha dato tanti anni fa ed è stato un incredibile potere reagisce quando qualcuno mi sta nascondendo qualcosa e mi permette di vedere dei lucchetti psichici che stanno trattenendo la mente della persona quando ne vedo qualcuno devo soltanto cliccare sul magatama e cercare di sbloccarli e sbloccarli mi porta alla verità let's go ecco l'altro societote lucchetti psichici paero quando chiedo a qualcuno bla 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 sono comparsi quando ho chiesto se qualcuno ce la poteva avere col marito e questo significa che la signora in me ha pensato a qualcuno che potrebbe avercela ora proviamo a scuotere questo vaso e vediamo che cosa succede la signora in me ha una qualche idea di chi potrebbe essere il vero assassino di suo marito potrebbe essere maya non è vero no certo che no deve essere qualcuno con un motivo per che qualcuno che aveva un motivo per ucciderlo this is who i believe questa è la persona che penso potesse avere un motivo per che avesse un motivo per uccidere vostro marito lady kira era il cacciatore di ribelli mascherato da lady kira tutti stanno parlando di lei non so nulla di ciò che di cui sta parlando davvero perché è anche era anche su tutti i su tutti i giornali non sono altro che un umile servitore di lady kira che motivo avrei che motivo avrebbe per uccidere qualcuno di insignificante come me beh a dire il vero ho qualcosa che potrebbe dimostrarle che lady kira voleva uccidere a botti in me la lettera di avvertimento ecco questa è una lettera di avvertimento di lady kira maya l'ha trovata era nell'inner sanctum e solo maya e vostro marito erano lì in quel momento fuori uno questa lettera è arrivata al suo legittimo destinatario vostro marito l'alto sacerdote non è vero e come sa che maya non vi stava mentendo perché io non ho mai visto quella lettera prima e dubito che mio marito l'abbia vista mi dispiace ma ho le prove che dimostrano che questo avvertimento era indirizzato a vostro marito ecco che cos'è è una busta indirizzata all'alto sacerdote la lettera di avvertimento che è stata consegnata a vostro marito era al suo interno non è così fuori due che sciocchezze sono queste come può dimostrare che quell'avvertimento è stato è stato portato in questa era era all'interno di quella busta ci deve essere un qualche modo per dimostrarlo aspetta un attimo la busta e la lettera di avvertimento non hanno qualcosa in comune penso che ci possa essere qualcosa che colleghi la busta alla lettera davvero? si e la prova è proprio qui nella lettera di avvertimento questo punto nella lettera di avvertimento dimostra che era stata consegnata in quella busta ecco i tre buchi nella busta hanno la stessa forma e sono nello stesso ordine dei buchi che ci sono nella lettera e se piega la lettera su se stessa e la mette all'interno della busta i buchi si allineano per quanto riguarda il che cosa ha fatto quei buchi immagino sia stata a frezza ecco sono stati fatti dalla freccia di Warbad una delle armi preferite di Redikira l'avvertimento era era piegato su se stesso in tre parti messa all'interno della busta e indirizzata all'alto sacerdote e spedita a vostro marito tramite le punte di questa freccia fatto vabbè ma lei era facile anche se erano tre lucchetti questa qui è anche la prima volta che ci sono i lucchetti quindi ci sta che sia stato così facile è pronta a dirmi la verità adesso ammetto che quell'avvertimento era stato mandato a mio marito ma non era un insurrezionista e allora perché l'ha tenuto segreto? perché le autorità avrebbero potuto sospettare di lui se non l'avessi fatto immagino abbia un senso tragico grazie per il subscribe benvenuto a tutti i miei membri dello squadrone della morte se la cacciatrice di ribelli era era le sue calcagne immagino come la gente avrebbe potuto vederlo come un sospetto un sospettato siamo un regno curainista per cui insorgere contro la monarchia è come è un po' come essere essere blasfemi nostro marito era un prete devoto nel curainismo e temeva che il suo buon nome venisse insozzato dalla preoccupazione se fosse se la questione fosse diventata pubblica esatto tutto ciò ha senso ma è davvero la verità e se l'altro sacerdote fosse stato davvero un ribelle la cacciatrice di ribelli avrebbe avuto un buon motivo per ucciderlo eppure non mi sembra però il momento migliore per chiederglielo potrebbe dirmi di più riguardo a quell'avvertimento è arrivato tre giorni prima del rito di purificazione quando ci siamo svegliati quella mattina era già lì di fianco al nostro al nostro letto era di fianco al vostro letto sì avevamo avevamo eravamo chiusi in casa eppure qualcuno è riuscito a entrare è stato così spaventoso non è vero caro eppure non ha contattato la polizia perché non voleva che sospettassero di suo marito che potessero accusarlo di essere un ribelle esatto se l'avessimo se soltanto l'avessimo detto alla polizia forse Frost sarebbe ancora vivo mia moglie adorata non teme non c'è bisogno di di pentirsi credo il mio unico pentimento è l'averti riuscito sola testa a punta direi che può bastare sì hai probabilmente ragione signore Emil mi dispiace averla disturbata in un momento così difficile non sia sciocco sono contenta di aver aiutato vostra benevole vostra benevolenza che meglio Swifty ah che la che possa risplendere che la possa che la vostra luce splendente possa illuminare la verità sì ma se leggi con questo tono mi bagno si fa quel che si può il forno testa a punta sembra che tu stia portando dei sospetti nei confronti di Redikira e facendo ciò intendi spostare la colpa dal vero assassino Maya Fey questa è l'unica conclusione logica non sono in posizione di di si di sbugiardarla se soltanto potessi trovare qualcosa che supporti la mia teoria che l'alto sacerdote era davvero un ribelle l'unica altra persona che potrebbe saperne di più di Abbotinmi sarebbe Maya o il fratello Phoenix Abbotinmi aveva un fratello dovrebbero avere finito di interrogarla adesso forse è il caso di fermarsi al centro di detenzione sto qua ha rotto il cazzo mia madre mia madre ha detto cosa? sembra che io debba andare è successo qualcosa? sì mia madre ha decretato che il rito verrà tenuto shall be held for the ah mia madre ha decretato che venga celebrato un rito per la scomparsa dell'alto sacerdote e lei condurrà la preghiera del lamento sì la preghiera del lamento vostra eminenza ha decretato tutto ciò davvero? oh ma non dovrebbe preoccuparsi di un umile prete come mio marito no è so è è è è ovvio considerando il suo servizio meritevole il rito sarà tenuto a palazzo mi deve se vuole accompagnarmi Lady Believe la ringrazio vostra benevolenza mio marito è più che soddisfatto beh magnifico per lei signore in me un diretto un decreto diretto della regina deve essere un grande onore testa a punta vieni anche tu cosa? ma non ho non ho molto tempo prima di per concludere le indagini in quanto io sono l'un sono la persona incaricata di sorvegliarti devi rimanere a portata dei miei occhi tutto il tempo per di più richiederà solo un momento ora vieni a discutere tutto ciò probabilmente non farà altro che peggiorare la mia situazione sarà meglio fare come dice lei per questa volta video incontriamo la regina finalmente benvenuta benvenuta lady believe bello quindi questa è la regina del curain c'è qualcosa che non va a testa a punta mostra un po' di rispetto dovrei inchinarmi oppure prostrarmi no va tutto bene non si preoccupi ma madre vostra eminenza vorrei ringraziarla lei onora sia a me che mio marito suo servizio esemplare era meritevole di essere onorato ma che che momento terribile e provante deve essere per voi lady believe possa la mia preghiera confortare la sua anima e quella del suo povero marito defunto niente potrebbe sollevarmi di più oh vostra eminenza le vostre parole sono sprecate su su me e il mio umile marito beh questa sì che è una presenza dominante quindi voi siete l'avvocato di cui parla di cui mi ha parlato mia figlia sì vostra eminenza sono molto onorato di fare la vostra nobile conoscenza io sono umilmente chiedo sono umiliato dalla vostra risplendenza forse sono andato un po' troppo oltre non ho la minima idea di come si parli a una regina che possa la sacra madre benedirvi ora lady believe andiamo nella camera della preghiera raifa accompagnaci anche tu si madre wow la regina sa il fatto suo la preghiera è dal lamento eh non vedi how that would be crash grazie per il subscape per il secondo mese di fila bentornato di membro scuola della morte è un angelo è un gundam già non fidarti vuole solo il tuo 8 per 1000 certo ciao morgante bentornato non vedi come tutto ciò non porterà nulla di buono è è il ministro di giustizia Inga hm chi sei tu eh piacere di rivederla ministro Inga di nuovo ci siamo già incontrati sono eh phoenix wright eh ci siamo incontrati nella lobby dell'imputato l'altro giorno ah già eh vestito blu eh capelli a punta tu sei quell'avvocato che ha portato mia figlia eh che ha ah si che ha abbassato la cresta di mia figlia un po' un po' vostra figlia? si Raifa lui è il padre della principessa Raifa quindi è il marito della regina gran intendi ficcare il tuo grasso naso in questo casino? beh l'imputata è una mia buona amica come ho detto l'ultima volta sarà meglio guardarti le spalle ah le dispiace se le faccio qualche domanda? vuoi fare qualche domanda a me? beh sarebbe fantastico ah hai le palle per un avvocato ma immagino che giocherò un po' con te cioè che in play along vuol dire si sono d'accordo va bene ma ho delle cose da fare vedi? quindi dovrai parlare mentre lavoro questo questo incidente si starò al gioco grazie morgante vorrei farle sapere che sarò l'avvocato della difesa anche in questo caso beh dire che non ti avevo avvertito ah quindi non è un sigaro è un timbro hai vinto l'ultima volta solo perché quell'idiota del procuratore ha portato delle false accuse non sarà molto diverso questa volta ho richiesto espressamente il procuratore migliore del curain del curain vedi non mi interessa chi avrò contro dimostrerò l'innocenza della mia cliente non avrei dimenticato quella piccola cosa del dell'atto di colpevolezza della difesa o sbaglio se se fallisci batirei lo stesso lo stesso destino dell'imputato come potrei dimenticare voi avvocati siete tutti uguali distratti your stuff si siete tutti siete tutti sicuri di voi finché il dc act non 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 cala sulle vostre teste e poi cominciate a implorare a a pregare e a e a implorare per le vostre vite è davvero difficile da guardare uno spettacolo simile lasciatelo dire beh non 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 ho in conto di di arrivare a tanto siete solo chiacchiere distintivo chiacchiere distintivo è stata lei a scrivere l'atto di colpevolezza della difesa forse sono stato io forse no forse vaffanculo io gli avvocati li tengo come i funghi non li do niente li tengo all'oscuro buona giornata che cosa ti forse sono stato io forse no che cosa ti cambia in ogni caso in quanto ministro di giustizia io intendo portare avanti questa pratica cominciando come un modo per contrastare gli sporchi trucchi della tua della tua risma del di falsificare delle le prove ma alla fine è diventato abbastanza utile perfino efficiente utile efficiente si ha reso il mio lavoro molto più facile chiunque qualsiasi pirla pensi incroci il patto mio dell'amministrazione di di Garan semplicemente si beccherano ciò che meritano soprattutto quella feccia ribelle la può passare liscia per questo meglio che tu meglio che stai attento a cosa dici avvocato altrimenti ah no io faccio io eseguo la legge nel cura in chiaro ed essendo il marito della regina ciò rende di melry ciò fa di melry no sono piuttosto sicuro che è la regina il capo qui forza di di quello che pensi così posso accusarti con l'esa maestà ah non posso farmi arrestare adesso senti un po' avvocato abbiamo un basso livello di criminalità e la popolazione vive in pace tutto ciò è grazie al DC Act quindi non voglio sentire nient'altro al riguardo ma non posso difendere la mia cliente finché a meno che io non non parli senza freni anche senza il DC Act Dirk e i suoi ribelli è la sua feccia ribelle ha i giorni di Durk ed è la sua feccia ribelle hanno i giorni contati che cosa intende con ciò diciamo solo che ho un piccolo asso nella manica quindi starei a guardare se fossi in te perché tu hai for compa grazie per il subscribe benvenuto per il membro squadrono della morte perché tu hai una attitudine ribelle proprio come quegli stupidi draghi D white you know what these are perché white ah perché sta fraintendendo il nome right dimmi white sai che cosa sono questi ah no che cosa ordini di esecuzione sai si impilano un sacco se comincio a bighellonare cosa e domani avrò ancora più lavoro dovendo processare quello per la tua piccola amichetta e se intendi davvero difenderla dovrò aggiungere un altro alla pila per te ma non sei abbastanza stupido da perdere il tuo tempo con un criminale ho sbaglio non ti preoccupare mi assicurerò di di alleggerire il tuo carico di lavoro inga non ti darò nessun ordine di esecuzione da firmare domani sono tornata testa a punta vostra benevolenza avete concluso il rito si è stato eseguito senza senza difetti e di believe è rimasta indietro per parlare con mia madre spero che questa che questo possa alleggerire il suo il suo dolore anche se solo di un pochino allora hai parlato con mio padre si diciamo così mio padre è un grand'uomo lavora senza sosta per mantenere la pace nel nostro regno il curain curain esistenza di il curain per come oggi deve tutto agli sforzi di mio padre e mia madre dovresti sentirti profondamente onorato in normali circostanze non avrebbero mai parlato a un avvocato ah sì certo sembra che reifa non sappia come sia veramente suo padre beh abbiamo finito qui quindi andrei a parlare con maia adesso oh sei tu nick maya stai bene l'interrogatorio non è stato troppo duro vero no sto bene e tu che mi dici qualche progresso beh non ho trovato delle prove conclusive che possano dimostrare la tua innocenza ma ho una pista davvero ma per adesso vorrei chiederti riguardo vorrei farti delle domande sull'alto sacerdote certo chiedi pure comunque che ci fa la principessa ancora con te nick non ha delle cose non ha cose migliori e più importanti da fare sembrerebbe di no vi ho sentiti come siete scortesi ma certo che ho cose più importanti che potrei fare ma ci ho fatto un elefante da quelle sbarre si vabbè ho avuto un pensiero ma ah no è solo un'idea ma pensi che l'alto sacerdote potesse essere un ribelle un ribelle perché pensieresti una cosa simile perché se lo fosse allora la cacciatrice di ribelli Lady Kira avrebbe avuto un motivo per ucciderlo che cosa la principessa Raifa mi ha sentito che che idiozie sono queste ha botti in me un ribelle ma tutto ciò è assurdo mia madre ha offerto la preghiera del lamento alla sua anima e così ecco che persona era va bene va bene stavo soltanto pensando a una possibilità non ascolterò a certe certe sciocchezzuole è uscita vabbè non ci possiamo fare niente ciao Mike tutto bene grazie ricordi per caso l'alto sacerdote fare qualcosa di sospetto a pensarci mi sembrava abbastanza restless cazzo non mi ricordo mai cosa vuol dire restless che non vuol dire tipo restless irrequieto agitato mi sembrava un po' agitato durante il rito continuava a dare un'occhiata al cielo anche se non avevo la minima idea del perché era irrequieto e continuava a guardare il cielo beh non ci dice un granché ho sbaglio nient'altro mi dispiace niente di più questo mi sa che è tutto ciò che riesco a sapere sull'alto sacerdote per adesso di che state parlando raga diamogli sedativi e speriamo freddure non ci provate nemmeno ok ma c'è ancora una cosa che posso chiederle ah certo quello del perché sta nascondendo il fatto che lei non vuole che si sappia che lei è il potere della madonna ora che non c'è più la principessa reifa potrebbe essere la mia unica possibilità è mezz'ora che faccio battutace gian e grovile punisci soccombi ops mi ha scoperto è grovile che fai dormi sul lavoro grovile maia riguarda quello che hai detto prima perché non vuoi che la gente sappia che sei capace di collegarti di entrare in connessione con gli spiriti oh quello sai che le regine sono anche dei medium qui si ho sentito è stato uno shock all'inizio però nel coreanismo il collegamento con gli spiriti è un'arte segreta che può essere eseguita soltanto dalle regine nessun altro dovrebbe essere in grado di farlo capisco quindi la connessione con gli spiriti è un simbolo di potere o autorità almeno in questo senso capisco perché sarebbe strano se una nessuno da un'altra nazione fosse capace di farla il collegamento degli spiriti è una tradizione coreanista ed è stata sviluppata da un da uno stile coreanista che è stata portata dagli stati uniti dal giappone attraverso il giappone cioè non credo che il corean sia in giappone ma sembra che i poteri spirituali del mio clan siano molto più grandi di un normale coreanese potrebbe essere una stranezza dovuta al nostro stile divergente ma non lo so perché quindi se il collegamento con gli spiriti è un potere posseduto soltanto dalle regine nel corean ed è un potere che possa that somehow made its way ah ed è un potere che in qualche modo ha è arrivato fino a Maya immagino che ciò renda la regina Garan e la principessa Rifa dei parenti molto lontani di Maya sì hai sangue reale Maya in ogni caso non è che c'è una regola al riguardo è solo preferisco che non non sia un problema o una cosa simile Misty Faye è ancora dispersa? sì Misty Faye è la bambina no? la bambinetta quella che sta che si mette così lei si è vista l'ultima volta in è un sacco che non si vede Misty se non mi ricordo oh trap kid credi che non possa farlo? ho un mouse velocissimo tutto nuovo ne sono perfettamente in grado è per questo che i medium che vengono qui per addestrarsi nascondono il fatto che possono collegarsi agli spiriti capisco non avevo idea potesse essere così complicato ah no Misty Faye la mamma di mia è Maya ah è vero è vero ah è vero la bambina è Pearl la bambina è Pearl in ogni caso addestrarsi qui è un è è un must per adempiere la propria qualificazione necessaria per diventare un maestro e qual è questa qualificazione qualifica per diventare un maestro essere capace di collegarsi a uno spirito ah off one zone la capacità di collegarsi a uno spirito di propria volontà senza mai fallire per dire ricordi come il mio spirito si collegava ah ti ricordi come il mio spirito riuscivo a collegarmi oppure non ci riuscivo riuscivo cioè la mia percentuale di successo era solo del 30% si ed era e la maggior parte delle volte erano gli spiriti che possedevano lei quindi adesso lo puoi fare qualsiasi volta in qualsiasi momento sì almeno credo credi beh non ho ancora mai provato a collegarmi visto che ho completato ah non ho ancora mai provato a collegarmi a nessuno dal sin dalla fine del mio addestramento ma una volta tornata a casa farò il mio test da medium proverò a collegarmi a uno spirito dietro l'altro in una maratona di collegamento mike ah ma io dovevo riabbonare meno male che sono passato a trovare la mia uscire e vabbè il mondo ha sempre bisogno di nuovi cavalieri d'argento grazie per il subscribe bentornato a termine lo squadro della morte soltanto coloro che passano il test sono meritevoli di diventare un maestro sì ma io so di potercela fare diventerò un asso in quel ah no passerò quel test a pieni voti e diventerò il prossimo maestro dopo tutto non posso lasciare che il mio clan ah non posso deludere il mio clan e gli altri gli altri cittadini giusto forse in realtà si è vista in dual destinies andiamo a cercare perché non me la ricordo maya c'è pearl pearl dual destinies ah già era cresciuta un pochino va che carina va che carina che era era cresciuta molto bene maya c'è pearl sì è vero si vedeva in dual destinies che aveva sempre questa posa qua e anche in dual destinies la fa vabbè torniamo a noi la grande speranza di maya ah no maya è è la speranza del suo villaggio del corain ci credo che sia molto sotto pressione non avete visto nulla perché aspetta ah no scusatemi ho sbagliato ve la devo fare vedere in un'altra in un'altra schermata dobbiamo andare nel good morning dicevo lei è pearl e e pearl si metteva sempre in dov'è la posa sua solita era qua ma l'ho persa però qua c'è tipo gli sprite totali eccola qua zoomiamo di bestia eccola qua questa qui vabbè torniamo a noi ma che tene rotta dove si compra in dual destinies si no è cresciuta adesso è un adolescente ed è molto caruccia beh parlando di somiglianze ho notato un'altra somiglianza tra la nostra nazione oltre tra le nostre nazioni oltre il collegamento degli spiriti ho visto uno spettacolo in tv poco fa che mi ricordava un sacco il samurai d'acciaio oh intendi il punitore piumato il guerriero di neo del neo regno del crepuscolo dobbiamo davvero quindi hai già visto il punitore piumato non dovresti non dovresti perderti nemmeno una puntata a dire il vero è stata a sua benevolenza che me ne ha parlato non c'è una singola persona nel kurain che non lo conosce oh vostra benevolenza siete tornata in quanto sacerdotessa reale sono incaricata di sorvegliare ogni tuo movimento quindi ho cambiato idea quindi per poter adempiere il mio dovere non devo tapparmi le orecchie nemmeno per nemmeno in seguito a teorie blasfeme sul senso del dovere è incommiabile ma non mi dispiacerebbe se fosse stata fuori ancora un po' ottimo tempismo vostra benevolenza c'è qualcosa di cui volevo che volevo mostrare a entrambi a tutte e due voi mostrarci Maya sembra esaltata all'improvviso si tada oh che cos'è è un gashapon del si esatto è un è uno strap del punitore piumato super raro ce ne sono pochissimi come questo nel mondo è stato fatto apposta per promuovere la serie tv tu sei in possesso di questo strap non dirmi che sei una fan del punitore piumato che lei è una fan del punitore piumato vostra benevolenza no certo che no soltanto dei bambini potrebbero guardare quella serie non ho alcun interesse in certe cose certo no sto dicendo la verità si si certo chiudiamo il discorso quindi come hai fatto ad ottenerlo Maya ho trovato uno spirito gentile ho trovato uno spirito gentile in un fan del punitore piumato qui nel kurain è il risultato di uno scambio di culture che ha trascendente i i confini nazionali e con scambio di culture intendi che hai scambiato avete scambiato merchandise di serie tv esatto io gli ho dato il mio orologio del samurai d'acciaio per questo strap è super raro it's a super raro ah era un orologio super raro che esegue il 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 tema del samurai d'acciaio ogni volta che 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 parte la che parte la sveglia il mio nuovo amico kurainese era così felice che in cambio mi ha dato questo strap unico del suo genere immagino che ci sono persone che immagino che ci siano persone del genere in ogni parte del mondo anche qui nel kurain guarda qua quando quando premi il magatama sulla sua cintura suona la sigla della serie assomiglia un sacco alla sigla del samurai d'acciaio ma di che cosa stai parlando non puoi sentire gli strumenti folk nell'introduzione e i toni esotici della canzone per di più il samurai d'acciaio ha i tamburi taiko giapponesi nell'intro nell'intro certo immagino immagino che le mie orecchie non siano buone come le tue in ogni caso ho avuto questa idea magnifica per un nuovo show il punitore piumato e il samurai d'acciaio in realtà è la punitrice piumata però vabbè proporrò di sicuro questa questa serie a qualche a qualche rete tv appena torniamo a casa sarà un grande successo giusto vostra benevolenza io non ho interesse in queste cose beh se non altro parlare della punitrice piumata ha grazie a dio tirato un po' su il morale a maya si sta facendo tardi cerca di riposare un po' ok maya e lascia che ci pensi io domani ok grazie nick penso di avere raccolto quello che potevo è tempo di tornare al tempio e ripassare ciò che abbiamo imparato finora tempio di temple archer vi guardo vi sorveglio e poi c'è lo sweeties e lo sweeties so che è è instancabile si sta facendo tardi non manca molto al tramonto signor wright vostra benevolenza doggo avete finito con le vostre indagini oggi più o meno immagino pensavo penso di avere indagato su tutto quello che potevo finora ti va di unirti a me certo la prego mi permetta di aiutarla ok tanto per cominciare sappiamo che l'altro sacerdote ha ricevuto un avvertimento tre giorni fa ed era da qualcuno che diceva di essere l'edichira e le ha detto di non eseguire il rito esatto era la cacciatrice di ribelli ma per quale motivo io vi guardo non ne sono ancora sicuro perché l'edichira avrebbe voluto mai fermare il rito se soltanto potesse risolvere quel mistero già potrei capire il motivo delle minacce all'altro sacerdote Axel credi che non ti riesca a vedere hai tirato la corda Axel anche i cavalieri di bronzo non sono non sono passibili di time out ero solo andato in bagno Grovaili i tuoi doveri la faccia del mouse più veloce del west ve l'ho detto ragazzi mouse pugio della asus velocissimo e preciso potrebbe essere esattamente quello di cui ho bisogno ma non ma non ne so abbastanza adesso per poter avere una una pista no ragazzi l'ho soltanto time out relax relax che sfortuna che sfortuna testa a punta la tua unica speranza si basa su speculazioni tutto ciò non reggerà mai nella sala di giustizia non hai alcuna prova che l'edichira sia veramente coinvolta in questo crimine dopo tutto già con la lettera di avvertimento da sola non può provare chi ha ucciso l'alto sacerdote ti darò un'ultima occasione per ritirarti prima di essere accusato seguendo il DC act vostra benevolenza per quanto sia vera vero che non hai fatto che non hai fabbricato o nascosto alcuna prova questo per è prodotto ah questo è niente meno che un prodotto del della mia del mio attento sorvegliare ogni tua singola mossa non stavo pianificando di fare niente di simile sin dall'inizio vostra benevolenza ma io dimostrerò che l'innocenza di Maya all'interno dei compini della legge come puoi essere così sicuro perché la mia fede immortale è nel mio cliente questa è la più grande arma di un avvocato sciocchezze hai scelto di scavare la tua stessa tomba quando ci incontreremo la prossima volta sarà nella sala della giustizia in quanto sacerdotessa reale è mio dovere rivelare la verità attraverso la la danza della derivinazione lucco grazie per il subscribe e benvenuto te rimembre lo squadrone della morte che cosa vuoi archer cosa vuoi questa volta dimostrerò che la mia che la addio insight era come l'avevo tradotto la mia chiromanzia the insight i glinder thereof are the very truth itself questa volta dimostrerò che la che la divinazione che eseguirò sarà la verità e nient'altro che la verità preparati perché questo sarà il tuo ultimo processo e i tuoi ultimi riti domani porrà fine tomorrow non sciolendo domani il domani si concluderà con l'ascia dell'esecutore sulla tua testa vuoi fare una freddura gratis va bene è concesso domani difenderò maia in quella che viene chiamata la sala della giustizia ho pubblicato il teaser di life is strange 2 una reaction veloce veloce ci può stare tutta quella tutta quella danza rende i tribunali i processi completamente differenti da quelli che sono abituato a eseguire in patria per di più non ho un pezzo di prova conclusiva come se non bastasse sono veramente confuso e sono molto ansioso ah no ho confusione e ansia da achili no archer una freddura e la fai tu dopo tutto sono l'unico avvocato nella sala del curain devo farcela io ce la farò dimostrerò l'innocenza di maia fosse l'unica cosa che faccio beh se fallisci è l'ultima cosa che faccio